14 ottobre 1962. Grazie a una ricognizione aerea, gli Stati Uniti scoprono che a Cuba i sovietici stanno segretamente installando rampe missilistiche in grado di lanciare testate nucleari. Si apre così la più grave crisi della guerra fredda, che fa temere al mondo lo scoppio di un conflitto nucleare. Grazie a tutti.